Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di un mondo di cubi Ragazzi siamo qua oggi per attivare finalmente la farm La attiviamo piazzando questa porta Che credo sia l'ultima Che andiamo subito a piazzare Notate che io ho piazzato tutte le porte guardando col cursore all'esterno Adesso facciamo finta che io sia un golem Appunto con tutte le porte che guardano all'interno Perché se le ho piazzate guardando all'esterno Loro guarderanno all'interno Vi faccio anche vedere Aspettate che mi avvicino Ok come vedete Le porte hanno il dietro libero E il davanti dove appunto c'è la porta Perché? Perché appunto guardano verso l'interno Guardano tutte verso l'interno Il golem che non è diciamo tra virgolette non si è ancora spawnato per ora Cosa pensa nella sua intelligenza artificiale? Pensa Devo spawnarmi perché ci sono tanti villaggiare e tante porte Però ho un problema Ho un problema perché Le case sono tante Perché il golem per ogni porta immagina una casa E questo qua è l'unico punto dove posso spawnarmi Quindi cosa faccio? Mi spawno qua Quindi il golem dice ok mi spawno qua Perché vede ognuna di queste come una casa E appunto per intelligenza artificiale non si può spawnare Al di fuori Perché appunto spawnarsi al di fuori della farm sarebbe come spawnarsi in casa per lui E quindi viene spawnato in quest'area Quest'acqua appunto che è stata piazzata apposta lo spinge qua E qua noi possiamo appunto andare a farmare il ferro Come facciamo? Allora per fare questo ho bisogno di andare nel nether E ho bisogno di prendere un paio di materiali Quindi direi che appunto vado nel nether Comunque prendo tutti i materiali che servono Tanto qua la farm dovrebbe già cominciare a funzionare Prendo tutto quello che ci serve E ci vediamo tra poco nel nether Ok ragazzi rieccoci Sono qua nel nether Con ben due secchi d'acqua E con i materiali che ci serviranno per completare la fa... Di acqua scusate Due secchi vuoti E con i materiali che ci serviranno per completare la farm Allora con molta prudenza ci avviciniamo a queste pozze di lava E riempiamo Oddio se riesco a parlare Riempiamo due secchi di lava E niente ci servono giusto due secchi di lava Per il resto abbiamo finito Adesso torniamo indietro Ehm Spero di no Però sicuramente sentirete un altro umore molesto Della mia misteriosa camera Che ogni giorno c'è un rumore molesto diverso Abbiamo potuto assistere a Il muratore in giardino che scavava Abbiamo potuto assistere al lavandino che perdeva ieri E oggi assistiamo a un altro tizio col trapano Non so, secondo me Ho dei vicini di casa che sono tutti quanti degli amanti di quadri Ehm Di conseguenza sono sempre pronti ad acquistare nuove opere Ehm E a diciamo far dei buchi nel muro per poterle piantare Ecco Secondo me funzionerà così Ehm Ok Detto questa cavolata ragazzi Vi chiedo scusa se c'è un po' di rumore Ma Vi chiedo di aver pazienza Allora andiamo appunto dalla farm Che potrebbe Già aver Dato il primo frutto Ehm Comunque Ho fatto questo piccolo tunnel Qua sotto Che ci permette di accedervi Ehm Velocemente Per le prime volte Comunque no Non c'è ancora nessun golem Per ora Forse perché i villager Non sono sufficienti Ma va bene A proposito di villager Li ho dovuti Oddio Se riesco a salire Qua ho fatto una piccola Cosa di parkour Appunto se Ehm I villager li ho dovuti coprire Perché magari qualche zombie Poteva tentare Di Ehm Fare il furbo E portarmene via qualcuno Ma io non li lascerò a far così Quindi Adesso pensiamo Piuttosto Dio sto trapano E' veramente noiosissimo Allora Ehm Pensiamo piuttosto Adesso fare Ehm Due casse O meglio Quattro casse Cosa dico Sì quattro casse Quindi due Ancora una E ancora una Ok Quindi così Quattro casse Che mettiamo qua Prendiamo tutto il ferro Andiamo a fare Quattro hopper Perfetto Andiamo adesso Qua E prendiamo due tre misure Allora Qua c'è l'acqua Qua ci sarà La presunta lava Quindi Qua facciamo il buco Per la lava Ok Quindi due blocchi Tre blocchi Perfetto Andiamo ora A creare dei cartelli Incredibilmente Sembra averlo smesso Anche se non è così Ehm Si sto parlando Del martello pneumatico No del trapano Ok Ehm Andiamo a fare appunto Dei cartelli Che si fanno così Ok Ok Perfetto Si Cartelli Prendiamone Ce ne diamo ben sei Che sono fin troppi Ah no ecco Ho ricominciato Eh mi sembrava strano Che aveva già smesso Ok andiamo a mettere qua Due cartelli Non ci scriviamo nulla Tanto è abbastanza inutile Ok Andiamo a Mettere un secchio di lava Lì E un secchio di lava Là Oddio dove lo sto per mettere Ok Così Il golem cadrà qua E brucia nella lava Allora qua ci sarà La sua testa Qua ci sarà il suo busto Qua ci saranno le gambe Quindi qua sotto Andiamo a mettere Gli hopper Gli hopper Perfetto Gli hopper con la pronuncia pure Inglisciuta Oppure tentato Tentato inglese Questo è un tentato inglese Ecco Allora Così Andiamo a fare Una cosa Del genere Ok Ok Perfetto Quindi io adesso farò Una cosa così Bene Il piccone si è fottuto Meglio ancora Beh meglio ancora no Però pazienza Andiamo a chiudere Tutto quanto Quindi dobbiamo mettere La Questo E Questo qui Ok E Adesso dire che Così dovrebbe essere Pronta Sì Quindi qua Adesso ne avremo Tutti i drop Dei golem Momentaneamente Facciamo ancora una cosa Sottolineo momentaneamente Perché di sicuro Non sarà così Almeno finiamo pure Quest'ultimo legno Faccio una doppia cassa E vado A metterla Di qua Ok Quindi da adesso La farm Dovrebbe essere Ufficialmente Operativa Quindi niente Aspettiamo che Appunto qualche golem Decida di sacrificarsi Per noi Anche se ormai È questione di Secondi Di millesimi Secondo Prima che un golem Si spawni Credo che devo Scaricare Caricare i chunk Ancora Se non funziona Quindi andrò Tipo Nella mesa Prenderò un po' di clay Tanto per E tornerò indietro Quindi faccio questo piccolo Stacco E niente ragazzi Quindi poi Ci vediamo tra poco Dove magari vi spiegano Un pochettino Che cosa faremo in questa zona Anche se penso Ditemi cosa ne pensate Di fare un mulino Con intorno Una mega coltivazione Che occupa tutta la pianura Di Grano Però questo qui Lo vediamo poi più avanti Ragazzi adesso vado appunto Per inizio a dormire E poi a raccogliere La fantomatica clay E aspettando anche Che il martello Finisca Quindi faccio questo piccolo Stacco E ci vediamo tra poco Ok ragazzi Rieccoci Ehm Oh Una brutta notizia Infatti il tempo Che ho a disposizione È veramente poco Ehm Però la fame di ferro Finalmente è partita Guardate un po' 12 lingotti La cosa bella Non è tanto Di avere lingotti Ma è anche Di avere i papaveri No scherzo La cosa bella È avere i lingotti Ragazzi E anche avere i giacotti Tra l'altro Quindi veramente Una figheta Una figheta Quindi Sono veramente contento Ehm Ho letto un attimo Nei commenti E ho visto Delle cose Very very cool Ovvero Ho visto Un'idea Che mi è piaciuta Ehm Che è stata subito Criticata Però secondo me Può essere figa Allora vi spiego Cosa ho letto Nei commenti Ho visto Ehm Un utente Che diceva Di fare una farm Di enderman E giustamente Un altro utente Sotto le ha scritto Ma come fa Ferre a fare Una farm Di enderman Se non è ancora Diciamo Ehm Non è ancora arrivato Land Hmm Bella domanda Però ci voglio riuscire Ragazzi Mi ha preso Ispirazioni Ho in mente Un progettino Ovvero una stanza Alta Alta 3 Dove quindi L'enderman Si possono spawnare Che però Quando appunto Voglio io Oppure automaticamente Non lo so Secondo se rivela Delle presenze E cose così Si alza Tutta quanta Di un blocco E Ehm Appunto Li uccide Ehm Sarebbe una cosa figa Veramente figa Però Sarebbe Penso che avrebbe Un'efficienza Veramente bassa Ne parlerò Con Il mio amico Redstoner Krypton Che Ehm Stavamo giusto Pensando Un pavimento Che si alza Automaticamente Di uno E lui logicamente È un genio Ce l'ha fatta Ehm Niente Poi ragazzi Ve lo farò vedere Più avanti Ora parliamo Di un paio di cosette Prima di tutto Dei saluti Che vado subito a fare Che sono per DJ Vince 99 Ehm Mario 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 99 Ehm Deoddio Questo qua è impossibile L'avevo già salutato Nella scorsa stagione Ma è impossibile Da pronunciare Deix Skrules 98 Alex Alex Brave Ivan Avignone Mister Master Demi E Super Girl Perfetto Quindi Dopo aver salutato Super Girl Proprio con la pronuncia Inglese Perfetta Ehm Voglio fare un piccolo annuncio Da Quest'episodio in poi Non farò più saluti Nel mondo di cubi Perché Ehm Non vi incavolate Non uccidetevi nei commenti Adesso vi spiego perché C'è una Ragione Più che sensata Allora Io Ehm Alcuni giorni Non riesco a registrare Perché registrare un mondo di cubi Tutti i giorni E' abbastanza difficile Quindi ho deciso Che dove in avanti Preregistrerò Di un giorno Ehm Gli episodi Quindi Quando voi starete vedendo Non so L'episodio 30 Io Avrò già pronto Il 31 E quel giorno Registrerò il 32 E Quindi sarò avanti Di un episodio Nel caso Un giorno Io non riuscissi appunto A fare Ehm A fare un video Uscirà comunque Perché sarò In avanti di uno Ehm E però Questo vuol dire Che io saluterei Le persone Solo dopo due episodi Quindi la gente Già lì Si comincerebbe A incavolare Ehm Anzi diciamolo Incazzare Perché vedi che Non li saluto E saluto gli altri E pensa che Mi sono dimenticato di loro Invece no Perché ho semplicemente Registrato un giorno prima Quindi i saluti Non è che li toglierò Definitivamente Ma li sposterò Infatti Non farò più Ehm Diciamo Diciamo i saluti Le live misti Ma soprattutto Verso che ora Lo preferireste Io credo che Lo farò In giorni festivi Sicuramente Perché il tempo Che ho è veramente poco Qua nel frattempo Raccolgo Le nether wart Si Le verco del nether Ehm Si ragazzi Il tempo che ho È veramente Veramente pochissimo Non ci posso fare niente Mi spiace un casino Ma è così Ehm Anche adesso infatti Tra poco devo Di nuovo uscire Perché sono veramente Impegnato E non è come Avevamo detto Sulla pagina facebook Che Eh Me lo avevo sentito Sulla pagina facebook Che si dice Eh Ferre non ci saluta più Perché Ehm Ormai Eh No 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 Salutare vi saluterò sempre Solo che vi saluterò nei live Perché così è più semplice Questo però porterà anche un vantaggio Infatti Voglio Cercare di Ehm Migliorare il mio canale Voglio ancora una volta Cercare di migliorarlo Ogni tanto Cerco di diventare qualcosa E ho Mi sono venute due idee In questo periodo Prima di tutto Cambiare le miniature Di questa serie E infatti La miniatura di questa serie Sarà diversa Ditemi nei commenti Cosa Cosa ne pensate Non tanto dello screen Che c'è sotto Ma della struttura C'è un mondo di cubi Scritto Col font di minecraft In 3d In alto La mia miniatura In basso A sinistra E il numero Da qualche parte Adesso non mi ricordo Ve l'ho messo Il numero di episodio Così a meno che voi Sarete più comodi Vedrete anche il numero di episodio Farò delle miniature Un po' più carine Ehm Però oltre a queste piccolezze Stavo pensando che Comincerò A introdurre Una nuova serie Nel frattempo Andiamo a vedere Adesso che abbiamo aspettato Un po' La fama di ferro Introdurre una nuova serie Questa serie Ehm Non sarà su un gioco In particolare Potrà essere su Happy Wheels Potrà essere su War Thunder Un free to play Che ho visto recentemente Che è molto bello Che è stato considerato Da You are fake Ehm E entro ragazzi Quindi Ricapitolando Tutto quanto Ehm Farò quest'altra serie Ma La farò Ogni tanto Come secondo video Del giorno Questo perché ormai La connessione che ho Mi permette di caricare Più di un video al giorno L'unica cosa che non ho È il tempo Quindi Dipende tutto quanto Da appunto Penso che Non salutarvi Ehm O meglio Non salutarvi in un modo di cubo Ma salutarvi in altre occasioni Mi porterà Tanti vantaggi Non Ripeto Non perché io non voglia salutarvi Perché io Davvero ragazzi Vi stimo un casino tutti quanti Perché Sette Cinquecento Ormai sei cento Ormai tra poco Dovevo andare a giornare La scritta Vi stimo un casino però Non posso Veramente Per questioni Che appunto Vi ho appena detto Non posso Ehm Perdere tempo così Perché comunque È una parità di tempo Io Già il tempo che guardo Per rispondere ai commenti Potrei Dimezzarlo Tranquillamente Se Invece che stare lì Ehm A rispondere ai commenti E Ehm Andare a riportare i saluti Mi Mettessi solo a Ehm Rispondere ai commenti E Ehm Ricordo che comunque È una cosa che sto facendo Come posso dire Ehm Cioè I commenti Rispondono È una cosa che Veramente mi sto concentrando Molto sui commenti Perché Non mi sembra di aver visto commenti Nei quali dove non ho risposto Ho risposto veramente tutti i commenti Comunque ragazzi Adesso Bando alle ciance Perché ho parlato fin troppo Andiamo a Parlare del prossimo progetto Tanto nel frattempo parlerò ancora Perché è un casino di cose da dirvi E il tempo stringe Allora Il prossimo Ehm Progetto riguarda lo storage Che ci sarà in questa stanza Che ho già cominciato a scavare Ehm Non sarà Molto semplice Perché sarà uno smistamento chest Ma non si svilupperà in 2D Cioè su una parete sola Ma bensì in 3D Ehm Ovvero su tutte le pareti E penso anche in altezza Quindi sarà Non so 6D Come posso dirlo Non lo so Sarebbe Sarà una cosa veramente complessa Immaginatevi lo smistamento chest Che adesso vi andrò anche a far vedere Ehm E anzi No ve lo farò vedere nel prossimo episodio Perché penso che Devo spiegarvi anche il principio Altrimenti alcuni di voi potrebbero non capirlo Ehm Anzi È abbastanza difficile da capire Se non ha il principio Ehm E niente ragazzi Quindi Ricapitolando Ehm Questo è tutto Adesso scaverò molto Sento dei rumori di zombie Quindi qua vicino c'è sicuramente una caverna Magari c'è pure un dungeon Sarebbe Tipo Una figata Comunque Io purtroppo Vi devo salutare ragazzi Perché Il video di oggi Deve finire qua Non ho Non ho veramente tempo Ma voglio assolutamente farvi uscire il video Per domani Perché comunque ieri Non sono riuscito a farvi uscire il video Perché In questo periodo veramente ragazzi Non avete idea di quanto il tempo Stia mancando Ehm Ci sono veramente Tante cose da fare Troppe cose da fare E Ehm Non riesco a stare dietro a youtube Logicamente Ehm Non posso neanche Perdere tutta la giornata su youtube Quindi devo cercare di Ehm Amministrare al meglio Tutte le cose Ehm Per il resto ragazzi Ehm Ho visto Beh meglio Non ho visto dei commenti negativi Però Mi è sembrato di percepire Ehm Sembra un po' Una frase da junior Però Ehm Mi è sembrato di percepire Che qualcuno Mh Si è un po' incavolato Che prende la partner Mi Vede un pochettino Più commercializzato Ragazzi Vedetela così Io Quando avrò la partnership Ehm Attraverso Humble Bundle Che è un sito che Ehm Util O utilizzato E utilizzo Per comprare giochi Ehm Credo che Ehm Appunto Quando la partnership Me lo permetterà I soldi che Mi arriveranno Non me li intascherò Io come Molti fanno Ma Spesso e volentieri Farò dei contest Su questo Su questo Sito Che dà dei giochi Abbastanza carini Come ho visto Qualche giorno fa Scribblenauts O Fear Che è un gioco horror E appunto Più giochi Vuol dire anche Più serie Ehm Tanto con tipo 5 euro compri O no 4 euro 3 euro Compri 5-6 giochi Anche abbastanza belli Ehm Bisogna aspettare logicamente Un po' di tempo Perché ne esce una settimana Ma No È abbastanza carino ragazzi Comunque Adesso mando le ciance E io Come al solito Vi ringrazio Per la visita Per il commento Per il mi piace Per tutto il sostegno Che date Veramente Un grazie a tutti ragazzi Ehm Vi invito comunque A lasciare un like Perché youtube è stronzo A commentare A iscrivervi al canale Per continuare a seguire la serie Mi raccomando Ditemi Cosa pensate della miniatura O comunque della base Della struttura Non tanto per lo screen Che penso Che andremo a fare ora E sarà tipo Uno screen della fama di ferro Ehm Ehm Appunto È piuttosto uno screen Cioè un Un commento generico Su tutto Sul live Sul Sul Su nuovi progetti Sul live E su Soprattutto sulla miniatura Che Mi interessa sapere Se vi piace più Io personalmente La adoro Però Cioè sono questioni Di gusti Alcuni di voi Può anche fare schifo No? Ed è giustissimo Quindi Ehm Direi che Appunto Facciamo lo screenshot Io Come al solito Vi ringrazio Spero che il video Sia stato Il vostro gradimento Ehm Cominceremo Di nuovo Con tanti 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 altri Progetti Ragazzi Ehm E niente Quindi Io come al solito Vi ringrazio Vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti